Arrivederci Arrivederci, grazie Arrivederci Grazie Arrivederci 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 Grazie a tutti 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 Non si fida perché sono giovane? Devi dimostrare ciò che vali Ti daremo una missione Che missione? Te lo spiegherà Andre È lui il combattente che ho scelto per sostituire Budia Ora vive a Parigi Ti contatterà lui Quando? Al tempo Aspetta Da oggi considerati un membro dell'FPLP Farai da secondo ad Andre E scegliti anche un nome da combattente L'ho già scelto Grazie a tutti